Siamo allo stand dell'Umbria in BIT 2011 alla presentazione ufficiale fatta da Claudio Ricci, sindaco di Assisi, del World Tourism Expo, il Salone Mondiale del Turismo nei siti UNESCO e nelle città patrimonio UNESCO in tutto il mondo e in Italia, Assisi è patrimonio dell'umanità UNESCO. In questa occasione sarà presentata anche la terza edizione del premio Turismo Responsabile Italiano. Nel 2010 sono già stati premiate 58 imprese, persone impegnate nel turismo responsabile, nel rispetto della natura, della cultura locale, dell'ambiente, delle tradizioni. Possono aderire al premio Turismo Responsabile Tour Operator, alberghi, strutture di ospitalità, enti e agenzie di viaggi. Allora il concetto di turismo responsabile è assolutamente trasversale, si può applicare al viaggio avventura nel deserto, alla scoperta delle culture in tutti i paesi e si può anche applicare a un semplice soggiorno balneare. Tra i nostri premiati infatti c'è un bike hotel a Milano Marittima, come c'è anche i grandi tour operator delle vacanze avventure in Peru, in Mongolia, in Birmania e molti alberghi diffusi, molte agenzie che sul loro territorio vogliono dare il meglio nelle strutture che sono ecocompatibili. Potete iscrivervi e candidarvi al premio Turismo Responsabile e anche al nuovo premio istituito proprio per il Salone di Assisi che è il premio Turismo, Cultura e Unesco, dedicato ai parchetti di turismo culturale. Per questo premio c'è una giuria che deciderà quali sono i pacchetti più adatti a coinvolgere il viaggiatore in un'esperienza culturale.